Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrozzo Sarezzano. Andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. Ciao Dario e ben arrivati e bentornati con la webserie del Pastore Transburne. Ciao a tutti, ciao Jenny. Nell'allevamento di Dario Sarezzano oggi siamo con Gandalf. Dato il grande successo del tutorial su come pulire, come toilettare un cucciolo, oggi Dario mi spiegherà con il mio supporto come toilettare un Pastore Manero Mano Ambruzzese adulto. Cosa cambia innanzitutto? Sì Jenny, ci tengo a ringraziare tutti per le numerosissime visualizzazioni, siamo oltre 11.000 se non mi sbaglio. Siamo molto contenti di questo successo per cui ho pensato bene di riproporre su un caladutto le stesse operazioni di toiletta però in versione un po' più professionale che possono essere utili per coloro che magari possano decidere di portare i loro cani all'esposizione e quindi una toiletta un po' da export, chiamiamola così, perché anche un cane di lavoro può essere portato all'esposizione. Quali sono i materiali che andiamo a utilizzare? Sono molto semplici, fondamentalmente vedrai che utilizzeremo uno spruzzino irroratore, quelli classici che possiamo trovare nel supermercato in buona sostanza, quindi assieme a un'emulsione tra acqua e shampoo per cani bianchi, iniziamo magari a umidificare il cane, lo asciughiamo per bene, utilizziamo sempre la fecola di patate, classica fecola di patate alimentare, per asciugare il cane e pulirlo per bene, quindi useremo come al solito un cardatore per rifinirlo e un po' di talco. Insomma, Gandalf è pronto? Dario, cominciamo! In the jungle, the mighty jungle, The lion sleeps tonight In the jungle, the quiet jungle, The lion sleeps tonight Come detto nell'altro video, il valore della fecola è tale da assorbire le particelle di umido dal pelo assieme allo sporco, quindi una volta spazzolata il cane risulta pulito. Hush, my darling, don't fear, my darling, The lion sleeps tonight Hush, my darling, don't fear, my darling, The lion sleeps tonight Nel igiene abbiamo la testa dell'orso bianco, lavoro finito, il cane pulito, nessun lezzo particolare, quindi utilizzando soltanto spazzola, acqua e shampoo, un asciugamano e fecola di patate, il cane è bello pulito e pronto per la sua esposizione. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away forever, honey. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away and skip to the beat of our hearts as they chatter as they pitter pitter patter Didn't you know that I could be a wingman flying around